La calda anche per quanto concerne la vicenda dei gruppier del Casinò, ieri sera ne sono stati arrestati altri due, avevano ricevuto già comunicazione giudiziaria. E ora veniamo con un ospite di questa edizione del festival, di questa serata eccezionale. Non sei un gruppier, no? No, no, non sei un gruppier. Sto combinando, chissà uno che l'hanno dato il primo tempo di parlare e poi si lo portano, no? L'avrete riconosciuto, Massimo Troisi, già lanciatissimo con il gruppo La Smorfia. Adesso tutto solo, come mai ospite di un festival della canzone? Ma, cioè, la verità, vuoi sapere? Sì. Perché a fine febbraio esce un film, no? Esce il mio film che si chiama Ricomincio da tre. E allora appunto, prima ero Smorfia, ma invece sono da solo e allora per lanciare, per promuovere questo film, sono venuto a Sanremo. O che si dico, ma la gente mi vede, dici come è simpatico, adesso fanno pure un film. Ecco, ma allora, questa sera che cosa puoi fare? Tu sei capace di fare tutto, hai piena libertà di poter far tutto? Piena libertà, sì. Cioè, nel senso che loro mi hanno detto di fare tutto, meno parlare di religione, di politica, di terrorismo, di terremoto, perché sai, il suo paese sta in una situazione così. E allora mi sono indeciso fra una poesia di Giovanni Pascoli e Carducci. Sono decisendo ancora questa cosa a fare. Ma sei emozionato ad apparire in Eurovisione davanti a una platea così preparata, soprattutto a giudicare le canzoni? Dicono che il livello culturale non sia mai stato elevato come quest'anno, dicono gli addetti ai lavori. Dicono gli addetti ai lavori. No, emozionato no, perché in Eurovisione mi trovo benissimo. Cioè, con il fatto che parli napoletano, così, perciò hanno scelto a me, per Belgio, no? Per Belgio vanno pazzi, per napoletano, allora si divertiranno proprio assai, secondo me. Allora, questa sera avrai come tu e i altri partner, Sordi, Tognazzi, ospiti illustrissimi come te. E questo non gioca un po' sulla tua psicologia? Non ti senti un po' inferiore a loro? A giudicere sì, a questo punto, perché Sordi, Tognazzi, Riga Nordici, visto che è preso un tuo osso, non si fa una breve firma. No, non mi sento inferiore perché poi, tra l'altro, anzi, Sordi e altri hanno avuto parole di alloggio per me, e quindi mi sento, su, in questo fatto, capito? Quando uno dice, bravo, tu farai strada, così. Ecco, allora, sperando che questa sera Massimo Truisi cominci a fare tanta e tanta strada, come veramente se la merita, è tutto da Sanremo.